Il Tar della Lombardia boccia chiaramente l'atteggiamento delle istituzioni che rifiutano di rispondere alle richieste dei cittadini. Succede nel caso di Sandro Merli, cittadino cremonese, che nell'agosto del 2014 inoltrò al Comune la richiesta di integrazione al reddito per morosità incolpevole. Il Comune non ha mai risposto e per questo è stato condannato al pagamento a ricorrente di 1000 euro, oltre agli oneri di legge a titolo di spese di giudizio, ed è tenuto a rispondere entro pochi giorni. Nel 2014, il 4 di agosto, ho presentato una domanda di sostegno al reddito, come prevede la legge, per poi un inserimento in un progetto che cambi la situazione di indigenza in cui sono. Questo è previsto dalla legge. Il Comune doveva rispondere entro 30 giorni, sia in positivo o in negativo. Il Comune non ha risposto, cioè ha adottato, come adotta sempre purtroppo, questo atteggiamento di arroganza istituzionale non rispondendo. Secondo il Tar, appunto, è già risarcitoria il fatto che il Comune sia obbligato a darmi una risposta e assumere provvedimenti nei miei confronti. Se poi il Comune non adotterà questi provvedimenti nei miei confronti, allora si andrà in un'altra sede del Tar e si ridiscuterà la cosa. La sentenza specifica che, nonostante l'amministrazione ritiene di avere il diritto di non rispondere a richieste continuamente reiterate e talvolta polemiche, quando non vi sono novità normative per adottare misure di aiuto ulteriori, il dovero è quello, sempre e comunque, di rispondere al cittadino. Il problema è però che, come Merli, sono molti morosi incolpevoli che si trovano in grave difficoltà e la richiesta vera, che viene anche dal Comitato di Piazza Patrioti a Borgoloretto, è quello che vengano studiati i percorsi ad hoc per i singoli casi, progetti che consentano di indirizzare a buon fine i soldi disponibili. Il Comune ha tempo, da oggi, otto giorni, per dare una risposta alla prima domanda che io ho fatto, cioè alla domanda del 4 di agosto del 2014. Diciamo che al contribuente cremonese è costato tra una parte e l'altra 6-7 mila euro di soldi pubblici che secondo me potevano essere impegnati in qualcosa di più utile socialmente, invece che giustificare l'arroganza di qualche dirigente comunale. Grazie. Grazie.